Ciao a tutti, oggi prepareremo la vellutata di broccoli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono broccoli, acqua, cipolla, carota, sedano, dado billi, sale, pepe e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la carota, il sedano e la cipolla, i broccoli, il sale, il pepe, il dado bimbi, l'acqua. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 1, aggiungere l'olio e frullare per 30 secondi, a velocità 8. La vellutata è pronta, andiamo a impiettare. Vellutata di broccoli. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!